Finta giornata Summer Cup, All Blacks contro Uragan Boy, 2-0 risultato, Falco, andiamo alla faccio, Falco, Falco, vieni, vieni, ma di questo calcio, andiamo da Ricci, Ricci state perdendo 2-0, no, 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 non state perdendo 2-0, ok, nessuno vuole parlare, Codugno, state perdendo 2-0, eh, penso finito, sì, che è successo, perché, perché state perdendo 2-0. Siamo a fare un'azione recente. Il portiere ha fatto un paio di belle parate. Vabbè, l'azione è un errore difensivo. Vabbè, in bocca al lupo per il secondo te. Noi siamo qui con De Luca e Sepe, partiamo da De Luca, migliore in campo nella partita tra Uragan Boy e All Blacks. 3-2 risultato finale. De Luca, tu hai segnato? Sì, ho fatto il primo. Hai fatto il primo gol, quindi hai aperto le marcature poi con la vittoria finale. Un piccolo commento sulla partita, dai. Ma è andata bene, dovevo vincere un però ce l'avevamo riusciti ancora. Speriamo che questo sia l'inizio di una serie di vittorie. Di un nuovo inizio, diciamo così. A qualificarsi bene per le fasi finali. Ho capito, va bene, dedicami il gol e ti lascio andare. Ma lo dedico alla mia ragazza e al prematuro ritiro al calcio di Favalli. Ok, alla prossima allora. Sepe, è iniziata male. Ti guarda peggio. No, no, peggio no. Poi avete accennato una reazione, però alla fine non si riesce niente ad agguantare il parigi. Niente da fare, ci prendiamo la prossima volta. Siamo scesi in campo un po' di paura, abbiamo preso subito i gol e poi abbiamo cercato di recuperare un po' il vento, un po' il portiere. È stato bravo. Sconvitta meritata. Va bene, allora in bocca al lupo. Ciao.